La subretta argentina Belen Rodriguez ha passato una notte intera a casa di Berlusconi, ma non ha fatto sesso con il Premier. Il motivo? Era la fidanzata di Marco Borriello, oggi alla Roma, ma all'epoca attaccante del Milan, ovvero la squadra del Cavaliere. Ciò che prima era solo un'indiscrezione, ora è confermato da un'intercettazione telefonica in cui il Presidente del Consiglio confida a Giampaolo Tarantini l'accaduto. È il 2 gennaio 2009, il Premier riceve sul cellulare una chiamata dell'imprenditore barese a cui dice, chiama a casa, è più comodo, posso parlare da un telefono sicuro. Giampi esegue e i due parlano della Starlet sudamericana. Ecco la ricostruzione di quella intercettazione. Berlusconi, Belen come va? Tarantini, madonna che bella che è diventata. Berlusconi, aha! Tarantini, l'ho vista in grande forma. Berlusconi, sondola un po' su di me. Tarantini, lo so, lo so, devo prenderla tranquilla un attimo, tanto stasera stiamo di nuovo a cena insieme. Berlusconi, benissimo, dille che io ho sempre espresso degli apprezzamenti molto positivi su di lei, come bellezza naturalmente, ma anche come donna. Tarantini, ma lei non l'ha conosciuta mai di persona? Berlusconi, chi? Belen, altro che. Tarantini, va bene, va bene. Berlusconi, l'ho conosciuta, è stata da me una notte, ma non abbiamo fatto l'amore perché ho scoperto che lei era la donna del mio calciatore.